Stiamo andando alle ferrovie, eh? Andate, ecco, queste cose mi divertono. Sentite, eh? Attenzione. ...dello Stato. Servizio FS in forma, automatico notturno. Vedete? Per informazioni relative agli orari dei treni, attenda in linea. Se desidera invece parlare direttamente con un operatore, richiami dalle ore 7 alle ore 21. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico, con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Frannarrarra. Dica la città di arrivo. Trumradra. Treno, cammarata, Novara, sì o no? Puoi dire chiesto? Aspetta! Silenzio, silenzio. Treno, cammarata, Novara, sì o no? Dipende! Parte domani 22 gennaio, sì o no? Va bene! Vedete? Allora, guarda. Avete mai chiamato le ferrovie? Sì. Sì. Per fare cosa? Per partire. Logico. Domanda stupida. Allora, attenzione, chiamando le ferrovie, vedete? Adesso farò il numero, lo posso anche dire tranquillamente. 147, 147, 8, 8, non mi sbagliate, non è erotica questa, è un numero di ferrovie. Sentite, eh? Ferrovie dello Stato. Come ti chiami tu? Il cognome? Automatico notturno. Per informazioni relative agli orari dei treni, attende i miei. Come? E le antipatiche ai genitori? Se desidera invece parlare direttamente con l'operatore, richiami dalle ore 7 alle ore 21. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. Certo. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Nipolis! Dica la città di arrivo. Trenadravra! Treno, limone, cammarata? Sì o no? Aspetta! No! Nipolis! Vuole gli orari del treno, limone, cammarata? Risponda solo sì o no? Eh, no! Parte da limone? Sì o no? No, no! Limone, non parto da limone, parto da... Non ho capito. Eh, manco lui sa come si chiama. Come ti chiama? Limone, risponda solo sì o no? Eh, sì. Dica la città di arrivo. Tramadrandra! Vuole arrivare a Amantea? Sì o no? Se lei insiste... Sì! Allora, basta così, riattachiamo. Taffala! Chiamiamo subito le ferrovie, 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 li chiamiamo, eccolo qua, io ho il numero, o meglio l'avevo il numero, non c'è più il numero, attenzione, eccola qua, eccolo qua, attenzione. Ta, 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 shh, questa è una telefonata automatica. Ferrovie dello Stato, servizio FS informa, per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì, per altri tipi di informazioni, dica no. Sì! Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico, con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Biscardi! Dica la città di arrivo. Mancini! Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Dica la città di arrivo. Mancio! Mancio! Diciamo come si chiama. Mancio! Diciamo il nome vero, Mancio. Eh, non capisce. Non ho capito, prego, ripeta la città di arrivo. Mancio, Mancio! Ma perché non gioca più? Lombardo! Lombardo, va bene? Mi scusi, dovrebbe parlare nel modo più chiaro possibile e con tono deciso. Sì, ma è Biscardi, ma non lo capisci. Beh, non ci vedo. Chieda a Biscardi di parlare in maniera chiara. Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale... Non si arrabbi perché... Mi scusi, dovrebbe parlare nel modo più chiaro possibile e con tono deciso. Per favore, ripeta la città di arrivo. Ingrassia. Treno, ricadi, isernia, sì o no? Lei pure non è che parla benissimo. No! Parte da... Ma c'è chi? Ricadi, sì o no? Parte da... Eh, sì! Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Parte da... Ricadi, sì o no? Eh, Marcolin! Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Diciamo sì, vai. Parte da... Ricadi, sì o no? Sì! Dica la città di arrivo. Tumfrandradra! Vuole arrivare a Istrana? Sì o no? Sì, vado da solo però, eh. Arrivederci! Grazie! Siamo arrivati al momento del rito e vediamo questa settimana dove ci porta il nostro rito. Allora, attenzione, numero magico per il rito e vediamo dove ci porta. Attenzione. Tac, 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 tac. Terrovie dello Stato, servizio FS in forma. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica... Siccome hanno due nomi... Per altri tipi di informazioni... Rispoli e Roncato, sembra due città, vediamo due città... Cadda? Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Rispoli. Dica la città di arrivo. Roncato. Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Dica la città di arrivo. Roncato. Treno, recco, ronta, sì o no? Basta, basta. Pensate... Uno fa prima a prendere il pulma a bicicletta, arriva alla stazione che chiamerà il telefono. Vediamo questa puntata dove ci porta, perché noi adesso non facciamo il famoso numero magico, eccolo qua. Attenzione, vediamo questa puntata dove ci porta. Servizio FS e informa. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Per altri tipi di informazioni, dica no. Eh, no. La sua chiamata è stata inoltrata. Le risponderà il primo operatore disponibile. No, io volevo l'automatico. Lo rifacciamo, shh. Lo rifacciamo, eh. Che strana stasera. Informazione gratuita. Le ricordiamo che anche per le chiamate urbane è necessario... Il numero, il prefissio per i treni. Ma prima non l'ho fatto. Devi dire sì. Devo dire sì. Ho sbagliato pure il sì o no. Ferrovie dello Stato. Servizio FS e informa. Devo ricordare sì. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Devo dire sì. Per altri tipi di informazioni, dica no. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico, con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Carlucci. Dica la città di arrivo. Califano. Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Dica la città di arrivo. Califano. Attenzione, parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. Dica la città di arrivo. Lagana. Treno, russi, latiano, sì o no? Va bene, va bene, grazie. Allora, vediamo subito dove ci porta questa puntata. Forza! Eccolo qua. Vediamo. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Vediamo dove ci porta questa puntata. Dica no. Sì. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Mollica. Dica la città di arrivo. Panicucci. Treno, modica, colico, sì o no? Modica, cosa ho detto? Mi scusi. No, non ho capito io. Vuoi i giornali del treno, modica, colico? Risponda solo sì o no? Solito? Non ho capito. Colico? Non ho capito. E neanche io ho capito. Dovrete parlare nel modo più chiaro e possibile. Vabbè, comunque, modica l'abbiamo capito, no? E la salutiamo, grazie. Salutiamo. Approfittiamo per salutare gli amici di modica. Ciao. Allora, noi lo facciamo subito. Vediamo questa puntata con Giof e Santillo dove ci porta. Attenzione. Attenzione. Giof. Ferrovie dello Stato. Santillo. Vediamo dove ci porta. E se informa. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Per altri tipi di informazioni, dica no. Sì, perché tu chiami 8 e 9 parti. Sì. Mi scusi, non ho capito. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Per altri tipi di informazioni, dica no. È chiaro. Sì. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. E europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Gioseph. Dica la città di arrivo. Santillo. Attenzione. Parli chiaramente e solo dopo il segnale acustico. È scema, è scema. L'ho detto Santillo. Dica la città di arrivo. Santillo. Capisco che è sconosciuto, ma così si chiama. Santillo. Treno, Ciro, Campello? Sì o no? Ciro? Grazie. Basta, basta. Cosa ha detto treno? Ciro? Allora, attenzione. Vediamo questa puntata dove ci porta. Attenzione, tac a te. Ecco, io non ci vedo più. Tac, tac. Attenzione. Questo è un servizio che gli italiani usano per prendere i treni in maniera molto più veloce. Se desidera invece parlare direttamente con un operatore, richiami dalle ore 7 alle ore 21. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. Sentite come è funzionale, eh? La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Solenghi. Dica la città di arrivo. Merz. Treno, Sori, None, sì o no? No, signora, no. Ho detto ben altro io, eh. Parte domani 5 maggio, sì o no? Eh, signora, parto col cervello. Attenzione, parli chiaramente e colgo il segnale acustico. Parte domani 5 maggio, sì o no? Non si arrabbi, signora. No, non parto domani, va bene? Quando desidera partire, dica il giorno del segnale. Subito, adesso! Eeeh! 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 Eeeh!